Pensionato per il fisco ma con un patrimonio da paperone a Nicola Di Maio arrestato per usura nei mesi scorsi, la Guardia di Finanza ora ha sequestrato beni per 100 milioni, tra cui un albergo a Marigliano, due centri commerciali e due centri sportivi a Marigliano e Sabaudia in provincia di Latina. Sequestrata anche una Jaguar XJ220, uno dei 281 esemplari esistenti al mondo del valore di circa 800 mila euro, parcheggiata nella hall dell'albergo e utilizzata come elemento di arredo. L'importanza dell'operazione è stata sottolineata in una conferenza stampa dal Presidente del Tribunale, Carlo Alemi, dalla Presidente della sezione misure di prevenzione, Eugenia Del Balzo, e dal Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Generale Riccardo Rapanotti. L'aggine in questione ha portato a luce soltanto, diciamo, tra virgolette, soltanto sei casi, quindi sei persone che sicuramente sono state vittime di Maio, una delle quali ha anche presentato la denuncia inizialmente, da cui è nata poi questa operazione. Questo secondo me è un dato molto importante da sottolineare, perché al di là del numero che può apparire esiguo, però è una dimostrazione del fatto come se le persone hanno fiducia alle forze dell'ordine, alla Guardia di Finanza in particolare, come in questo caso, noi siamo in grado veramente di ottenere dei grandi risultati. Ex autotrasportatore di Maio accusato di aver persato soldi con tassi di interesse usurari a numerose persone, tra cui proprio alcuni autotrasportatori. Una delle sue presunte vittime che vive in provincia di Latina nei mesi scorsi ha tentato il suicidio. Le indagini della Guardia di Finanza sono state avviate in seguito alla denuncia delle persone indebitate. Il sequestro preventivo si basa sulla proporzione tra il reddito dichiarato da Di Maio e i beni dei quali aveva la disponibilità. In attività criminale oramai abbiamo i prestanome, che questi prestanome possono essere familiari o possono essere persone apparentemente strane alla famiglia, ma sicuramente questo dimostra anche un po' l'arroganza di queste persone che ritengono di poter impunemente svolgere la loro attività.